Perché leggere Marjorie Finnegan e Ennis? What else? Carissimi amici e amici amanti dei fumetti, benvenuti a questa nuova recensione. Eccoci, ho un nuovo numero di Ennis, il nostro amico Gar Tennis, il mio amico Gar Tennis, ok, se non è il nostro amico è il mio, perché è uno attualmente di tutti gli autori sullo scenario mondiale che più mi affascina, intriga, nella sua capacità di scrivere e nelle sue proprietà di fumettista. E quindi quando l'anno scorso si è affacciato sul mercato attraverso la salda pressa, che assieme un po' alla Panini, credo praticamente, e una volta alla Magic Press, non credo che per ora la Magic Press abbia rimasto alcun diritto, forse roba vecchia, non lo so. Forse no, dico una stupidagine, anche la Cosmo sta per uscire recentemente con un altro fumetto, proprio in questo periodo, proprio di Gar Tennis. Bene, detto questo, un po' quelli che mi portano il buon Gar Tennis in Italia sono qui, e quindi non faccio altro che coglio l'occasione per ringraziarli. Quanto devo ringraziarli, però, per questo Marjorie Finnegan, che come potete ben intuire, anche da questa bella copertina, fa già intuire, insomma, che ci sono degli elementi discretamente su di giri. Una bella bionda con un bel canne mozze, con un fucile a pompa in spalla, che sorride placidamente, a stechi, giziani, o chi che sia, adesso qui, che le vogliono, sembra, pestare qua di dietro, e tra l'altro una testa in stile Futurama, mozzata così con solo la testa, che si porta appresso. In qualsiasi altra occasione mi sarei detto ma siamo scemi, cioè nel senso cosa bisogna che mi scrivano qua dietro come sinossi per convincermi ad andare a buttarmi su questi tipologi di fumetti qui. In questo caso, come abbiamo detto, basta che ci sia scritto Gar Tennis, ma neanche ne discutiamo, ma neanche ne discutiamo. Allora, però, mettiamoci il senso critico di Viper, perché per quanto simpatizzi, e questo non si può assolutamente annullare, cioè che un po' di simpatia per l'autore c'è, quindi magari può anche influire nel mio giudizio di questo albo. Sappiatelo, ed è sempre, secondo me, onestà intellettuale ribadirlo. Detto questo, però, cerco sempre di analizzare questi volumi con un po' di approccio super partes, che cerchi di vederla da un occhio neutro, senza queste influenze qui. Si cerca, e poi ribadisco. Sono io al primo a dire che non può essere mai 0% di influenza in totale, proprio non siamo soggetti esterni. Detto questo, però, tale confusione di situazione, come si va a declinare dentro? Togliamoci subito il dente, andiamo ad esaminare, diamo una sfogliata alle pagine per vedere quanto c'è da impressionarsi e quando c'è da tenersi stretti per dire oddio, 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 qua magari i cartelli si stavolta è cagato fuori. Andiamo a dare un'occhiata e vediamo di cosa parla Marjorie Finnegan. Marjorie è un'avvenente bionda, di professione ladra. Ladra temporale, per la precisione, in quanto per svolgere il suo lavoro, nonché di letto, utilizza i viaggi nel tempo, grazie al suo amico Tim. O meglio, a ciò che resta di Tim, ovvero la testa. Le sue scorribande la rendono una delle criminali più ricercate dalla polizia temporale, soprattutto dall'agente Harry Finnegan, che tra l'altro è la sorella minore di Marjorie. Harry ha subito angherie da parte della sorella maggiore per tutta la sua infanzia e una di queste gli è costata l'occhio sinistro e per questo motivo Harry ha sviluppato un grosso rancore nei confronti di Marjorie. In mezzo a questa rincorsa tra sorelle assisteremo alla messa in opera di un piano diabolico tra l'ex marito di Marjorie, un individuo dall'aspetto diavolesco ed un ben più temibile signore del male. Questi ha intenzione di sostituire se stesso a qualsiasi icona religiosa del mondo per diventare di fatto il centro di ogni possibile culto della storia. E ovviamente le sorelle Finnegan si troveranno a dover sventare questa clamorosa minaccia. Oh, dunque, che storia intricata, quindi ce l'avete capito cosa si parla ai viaggi nel tema? Capisco che possiate avere un po' di confusione e non vi sia per nulla rimasta convinzione di quello che possa essere intrigante in questa storia e io sono il primo ad ammetterlo. Anch'io quando ho letto la sinossi di questo libro ho detto What? È inevitabile! Questo, e tra l'altro i due volumi sono usciti più o meno nello stesso periodo, quindi mi è successo anche di metterli sovrappori, metterli molto in parallelo, mi sembravano andare molto a coro. Tra l'altro per fare un esempio, qui c'è una bionda e lì ci sono delle belle donne e delle bionde anche lì. Ovviamente su Frank Chow avete visto nella recensione i dinosauri, beh, i dinosauri che non mancano anche in questo caso, come perché poi si vedrà e vedremo. Però è inevitabile che se uno dovesse fare dei paralleli, quando ho letto le sinossi, questa sinossi qui, questo soggetto, una sorta di Hunger Games, più già sentito e rivisto, più banale se vogliamo, però comunque mi intriga di più che non viaggi nel tempo con casini familiari, il diavolo che non è il diavolo, il signore del male che vuole fare un piano strampato, tutte queste storie qua. Lo ammetto ed è così. Però, detto questo, detto che se si legge la sinossi e si dice ma che cazzo, alla fine dei conti, questo qui, di Ennis, rispetto a questo, si entra, si empatizza di più, si entra di più nella storia, e per qualche motivo si rimane più engaged, non so come dire, nonostante, ecco, anche qui, sì, c'è qualche colpo di scena, ma essendo che può accadere un po' di tutto, il contrario di tutto, forse l'effetto è anche più, non dico atteso, però insomma, non ti svalvola, adesso non è che anche questo, forse un chissà che colpo di scena, però insomma, non si può paraganare su quello. E non credo siano nemmeno i due spillati, questo è composto sostanzialmente da sette spillati, non vi posso dire il comparto, il numero di pagine, perché i maledetti, come al solito, io vi denunzierò, ve lo dico, non lo mettono mai in fondo alla pagina, ma se questo era 5, ed era 138 pagine circa, di fumetto, questo ne ha 7, sarà 170, circa, al 180, magari un po' incide, ma non credo che sia questo spazio in più a, come dire, coinvolgerti, secondo me, inevitabilmente, c'è la scrittura, c'è la differenza che fa, lo scrivere, e secondo me diventa dimostrazione di abilità, o comunque di, poter scrivere qualcosa comunque di più strutturato, rispetto a chi è semplicemente interessato a creare entertainment, e mettere su scena le cose più strampalate, anche l'enni, ovviamente vuole mettere su scena le cose più strampalate, però lo vuole fare stupendo, mettendoci in mezzo, come al solito, come non può esimersi da fare, la satira politica, soprattutto anche la satira religiosa e sociale, ma soprattutto religiosa, perché appunto, qua abbiamo il signore del male, che ha il suo grande piano, che è quello di tornare indietro nel tempo, riuscire a modificare i documenti, per i quali, se tu riuscirai a modificarli, tutte le religioni, cristianesimo, buddismo, tutte, tutte e tutte le religioni, sostituiranno nella sua faccia, il suo lui, a quello delle loro icone, e quindi diverrà lui l'unica icona venerata sostanzialmente da tutte le popolazioni mondiale. Questo è il piano. E quindi dietro c'è tutta la critica sulla religione, sull'assoggettamento che viene fatto, tutto quello che potete intravedere dietro questo. quindi si rende anche più godurioso il proseguire l'andare avanti quando in mezzo a tante pagine di puro intrattenimento leggero, diciamo così, per quello che accade su scena, in realtà poi dietro c'è sempre un Ennis che ti fa l'occhiolino ma appunto non sempre per forza, a volte anche quella, ma non sempre per forza con la battuta leggera, cacciarona, la scena trash o questo e quest'altro tipo la famosa scena che per dire una delle cose che più quando c'è fa scalpore, fa una cosa o un'altra, magari fa anche simpatia vedere un po' l'espressività con questa cosa, ecco che anche per dire c'è quest'altra scena giusto per far intendere perché Marjorie è una matta, una matta schizzata che è uno di quei classici personaggi che di contro empatizzi, empatizzi ma al contempo diventa diventamente il giro che diventa quasi antipatica, è di quei personaggi che se ne frega di tutti e di tutti, ha acciaccato la sorella, gli ha tolto un occhio, gli ha reso la vita fin da piccola, insomma è praticamente impossibile e lei continua a vivere la vita spensierata fotendosene di tutto e di tutti sta senza problemi sostanzialmente, non mi ne frega di niente di tutto se non di arricchirsi ma anche poi quando non è un'azipapeore non si dispera se perde il tesoro tanto agognato desiderato se non troverà quello ne andrà in cerca di altri accumulerà però insomma non c'è quella avidità è tutta una sorta di spensieratezza semplicemente rivolta al suo essere così perché è così perché ciò che la motiva magari ovviamente ha qualche sentimento qualche amicizia anche lei ma siamo decisamente nel leggero quindi ecco non dico che si può simpatizzare chissà quanto con questa Marjorie forse di più anche con la sorella poverina che gli è capitato di tutto e di più ma ovviamente la storia come ben detto passa un poco in secondo piano oppure ripetisco anche questo rimanendo discretamente scorrevole volendo cercare di capire dove vorrà andare a parare e ovviamente non ve lo sto neanche a dire mettete da parte qualsiasi coerenza realistico scientifica o voi che entrate cioè nel modo in cui si parla di viaggi nel tempo spazi temporali si cambiano le cose come si cambiano non si cambiano in realtà non si cambiano basta che giusto per far capire come te la risolve in due parole il nostro Ennis vi state facendo le solite domande sui viaggi nel tempo giusto? per esempio cosa succede se uno di questi tizi che sto coppando questa è un po' la scena in una piramide di tizia mentre si stava per tubolare un faraone si rivela essere il mio bis 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 eccetera bis nonno e se mi scopo il nonno di Martin Luther King e tutta la famiglia diventa bianca e se invece calpesto un sorcio del Cretaceo che in verità era un anello evolutivo niente paura miei cari la risposta a ogni domanda e a ogni esigenza temporale è il realignatore K2001 qualcuno lo chiama raggio di frattura altri Deus Ex se non vi dispiace io continuerai a chiamarlo de minchia tutto praticamente aggiusta il tempo ecco Ennis è uno dei pochi che è capace nel contesto nel modo in cui scrive ti fa arrivare anche certi prodotti tipo tutte che alla fine me le fa non dico che mi strappo i capelli che ne rido e mi rivolto per terra ma mi ci fa sorridere piuttosto che mettermi il palm face ok? non lo so perché è così io da quando ho letto The Boys ero propenso a pensare che si trattasse dopo averne letto un po' ho sentito parlare di una trasciata incredibile molto fine a se stessa e ovviamente poi eppure sono giunto a ricredermi e ovviamente poi sono giunto a prestare anche tutti gli altri lati tra cui anche quando eccede quando va oltre con il suo morismo quando proprio sopra le righe Ennis è uno dei pochi che me lo sa appoggiare l'ironia si intende ovviamente in quel posto che dire quindi ve lo consiglio non ve lo consiglio sicuramente se apprezzate Ennis prettamente per il suo lato più serioso dalle storie di guerra di cui ha spesso scritto piuttosto che delle sue altre opere comunque ecco abbastanza non dico impegnate ma comunque con temi che dal thriller all'action comunque rimangono abbastanza seriosi qui ovviamente come detto il sopra le righe la fa da padrone se però saprete scivolare sopra lo stare questo sopra le righe secondo me potreste anche apprezzare la sceneggiatura la storia che ci sta dietro e perché no in questo caso anche questi disegni di Goran Suzuka perché per quanto non siano Uber Alice e insomma anche questi a volte abbastanza saprei come definirli facili insomma anche questo stile è abbastanza semplice magari un po' espressivo caricaturale in espressioni ma non con chissà quale dettaglio ecco devo dire che Suzuka rispetto a volte agli autori di cui si circonda Ennis lo metto più tra quelli più verso l'alto che non tra quelli verso il basso perché insomma altre volte secondo me ha la caratteristica Ennis di trovarsi per delle storie fantastiche a volte di disegnatori non proprio che definirei all'altezza non delle schifi però insomma nemmeno come quello che si inventerebbero le sue storie quindi è un viaggio che secondo me non magari tra le priorità assolute perché anch'io non sono per questa tipologia di storie qui in primis ma è un viaggio che vi consiglio sicuramente detto questo non è tra le opere prime di Ennis tra quelle che ho letto io per ora sì non è tra le prime non è tra le prime però ribadisco io di Ennis ancora devo leggere qualche cosa che non mi sia piaciuto arriverà probabilmente ma per ora ancora no questo comunque mi piace vado a far parte della mia libreria di quest'autore comunque ecco appunto non tra le cose in negativo fatemi sapere ovviamente se l'avete letto che cosa ne avete pensato diversamente o accomunatamente a me in quello che ho espresso e se la si no si il tema il modo in cui declina questa ulteriore storia Ennis non vi frena al punto tale da non riuscire ad andare oltre ecco ad esempio io a volte se non fosse passato di Ennis per altri autori magari mi parlam bene di un volume di questo tipo qui mi dico si non mi parli bene però a me la storia non mi sembra proprio che faccia il mio tendo a magari chiederlo in prestito non fidarmi al punto tale da andare in questi casi probabilmente se non fosse Ennis mi assesterei anch'io su questa linea qui naturalmente io vi ringrazio per aver visto anche questo video ci vediamo ad una prossima recensione spoliciate ovviamente se vi piace Ennis e iscrivetevi perché non ne mancheremo una di tutte le sue opere ci vediamo alla prossima recensione ciao da vai